Sono numerosi per il tecnico Roberto Boscaglia i rebus da risolvere. In vista della trasferta di potenza il Palermo si prepara a nuove rivoluzioni nella formazione iniziale. Match di fondamentale importanza per il rosanero che dopo i passi falsi del Renzo Barbera e i quattro punti accumulati in tutto il mese di gennaio devono dare una brusca sterzata al cammino in campionato con l'obiettivo dei play-off che non deve mai essere perso di vista. Diverse saranno le assenze contro i Lucani per quanto riguarda la difesa. Andrea Cardi è stato costretto a dare forfede rimasto a Palermo così come Almici e Marconi. Davanti a Pelagotti Crivello dovrebbe esserci ma si prepara anche Corrado mentre a destra Doda e Peretti si giocano una maglia da titolare. Al centro favoriti Lancini e Somma. Auger dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto così come Luperini. L'altra maglia da titolare potrebbe andare al neoarrivato De Rose. A meno che Boscaia non cambi tutto, in avanti dovrebbero partire dal primo minuto Valente, Canoutè e Lucca. A potenza fischio d'inizio domani alle 12.30. Impegno casalingo per il Catania che domenica, con inizio alle 15, ospiterà il Monopoli nella terza giornata di ritorno. La squadra ha svolto poche ore fa la rifinitura ma le news più importanti arrivano dal mercato. Il club Etneo ha infatti ufficializzato l'arrivo di Matteo Di Piazza in prestito dal Catanzaro. Per l'attaccante nato a Partinico si tratta di un ritorno in maglia rosso-azzurra.